Bianca Azzei attacca Max Biaggi dopo che lui l'ha lasciata senza un motivo Bianca Azzei lancia una frecciatina all'ex fidanzato Max Biaggi Bianca Azzei sta attraversando un periodo alquanto duro dopo essere stata lasciata da Max Biaggi Come se non bastasse, adesso la cantante deve affrontare il problema di salute della sua amata cagnolina Lei stessa lo ha comunicato ai fan tramite un post sul suo profilo Instagram. Queste le parole di Bianca Azzei, domani mattina la mia cagnolina mia verrà sottoposta ad un'operazione molto delicata dalla mia amica veterinaria Elisabetta Eppure, nonostante la preoccupazione, la cantante non ha resistito a lanciare una frecciatina a Max Biaggi La Azzei, infatti, ha concluso dicendo, per me mia è come una persona, anzi delle volte riescono a darti più amore delle persone Le manca è solo la parola. Forza mia . Max Biaggi ha lasciato Bianca Azzei senza motivo A detta della cantante Biaggi l'ha lasciata senza darle alcuna spiegazione La Azzei qualche giorno fa ha infatti rivelato in un'intervista al settimanale chi, è stata una bomba esplosa all'improvviso La nostra storia è finita e non so nemmeno perché Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora Per poi aggiungere, tutto è successo in modo veloce Non so nemmeno come commentare una cosa del genere E' stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max Grazie a tutti